Eccoli dai, prende veri, stanno noi. Eh, porca, ne ho puttano. Ecco lì, porca, ma la nostra. Ci conto, sono proprio l'arma. Eh, vaffanculo, combattolo, la facciamo a cazzotti con le armi, come va papà. Oh, ditemi che avete un'arma, sperate con una roba. Non ce l'ho. Dov'è? Mi distrutta? Dai, io comunque tre cazzotti. Dove stanno? Dove stanno? In fondo, in me. Io sono Radius. Come? Come dici? Ci sono munizioni per cecchino qui. Oh, è solo Radius ancora? Trovarmi. Combattolo, ti lascio le munizioni. Oh, ho preso i pelam. Oh, guarda qua. Uh, c'è il colore. Sto ricaricando, prima vittima Ma vuoi valire? Stanno lottando tutte le unità Stanno lottando Bangalore, Loba Minchia Sto ricaricando gli spudi Lamello è proprio lì davanti L'ho fatto L'ho fatto tipo un acimo antino Oh l'hai lottato L'ho fatto Quasi attack Allora Distrutto fatti One pat One pat Qua Dietro Grattata Oh Perché non la resta Oh Adesso li appunto Sono il libero ucciso Nessuna pietà Ma andrea Ma andrea frana Passiamo da qua Si Ho verificato un errore Si è verificato un arresto Eh 21 flash 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 La push La push Vai 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 Bella È bloccata No No Non lo so hanno messo balloon Spaccamo Gli lo spacchiamo il ballone ragazzi Insieme Abbastanza colpi Qui c'è un caricatore Qui c'è uno stabilizzatore canna Livello 2 Ma che avete la camera blindata ragazzi La prendo io Sì Prendere un bat Mi fuggono Avete qualche bat Visto che siete dorati Tutti in giù Eh no Non è bella che non mi riapre il gioco Qui c'è una batteria a scudo Io aspetterei per il banner Si 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 Ma ad esempio Se non hanno Non so che hanno Newcastle 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 è una cosa possono bastare Ah boh allora Andiamo Grazie 18 team ancora Cioè solo noi 18 team Si ma infatti No Ma che cazzo sta facendo sto zato di merda Mi sta facendo Brinco di anile No è aperta L'hanno aperta da poco mi so Mi è prato di sentire passi eh Andiamo a quella di Skyhawk Stavano fettandola Oh niente Non avvicino la serata Vogliono arrestare Traccata Traccata Venga venite con me No No Buona Buona serata Quanto è bella Quanto è Quanto è Troppo Io Non mi è piaciuto che Erina è passato con la Q Io sono passato con la zipline Attraverso le U Oh Gente dietro Gente dietro Loba 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 Già Loba Loba Ok No S'era Si Io Sto Ero Mi ha Una Detto ma io quasi quasi mi prenderei siamo con roba da qui sotto ragazzi no a si liberate 3 prende oltre per quasi ma spettacolo leggero porco raga questa è 10 10 10 andiamo verso quelli andate bene insieme all'altro lato in realtà no facciamo una cosa stretta da qua o no o volete far l'altro lato anche è meglio anche perché hanno appena finito di riflettare quindi ma che manca da mega zip però prima mi devo prendere un caricatore legge ma chi cazzo di mercato è questo eccoli la a questo di me quando ce l'hai 169 Poverito! Certo Valkyrie! 169 valore! Posizione arrivata, la Ashe! Lui è tirato! Nacuno! Il flash l'altro! Ok! Da destra, da destra! Mi tiro l'ultimo! Ok, sono andati! Ho ucciso un nemico! Adesso le affumico! La pista è eliminato! Raga avete capito che c'è gente dietro di noi? Dalle ponte lì! No, il ponte e le buffe! Ho bisogno di raggiare! Bunker? Ah, ok! Sì, sì! Leggere non ne avete, vero? Sì, ne ho io! Secondo me arrivano di qua! Mi servono munizioni leggere! Raga, mi prendo la... Lascio una gold qua! Quest'ora avevo fatto... Me l'ho fatto l'armor arcobaleno! Eh, senza scudo! Eh, senza scudo! C'è la pistolina! Sta mirando! È il mira! Ho messo il scudo! Spara una Skyu! È il giro! Ah! Cazzo, c'è una taggita! Frammento! Dove ti metto a ziplino? Andiamo laggiù! Montiamo! Ma dovremmo avere un team di qua! Andiamo da quella parte! L'ho ucciso... L'ho ucciso Andre! Quelle che ci sono... Nove squadre! Un crashato, Andre! Che cazzo è? Oh, eccole lì, sì! Ostile individuato! Nove squadre mi prenderei position, ragazzi! 22 persone... In realtà mancano un botto di persone! Mancano una marea, mancano una marea di cibo! Che cazzo è? Siamo l'unico coltivo! Ah, mancano cinque persone! Quello non ci ha visto! È girato di spalle e sta guardando verso Terp Artiland! Vabbè! Eh, qua davanti! Ok! Ce n'è uno fermo immobile, raga! L'ho mirata, cazzo! È una raid! Alla zipline! La vedete? Allora, un team va sul ponte! Sono blu! Allora, c'era un team che andava sul ponte a prendere il drop, raga! E' una guarda! E' una guarda! E' una guarda! Un team? Dove è andato? Sul ponte a prendere il drop! Ricarico gli scudi! No, no! È safe! Oh! Oh, raga! Sono qua sotto in open! Qua si crack octane! Qua dietro il crack! Craccato! Mi allargo su di lui! 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 Craccato di nuovo! E' trash! No! Distrutto octane! Oh! Un battito! No! Horizon! Horizon distrutta! Horizon distrutta! Ok! 134! Oh! E' questo è loco! Vabbè! 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 Un spoiler da ciò che stare religiously Sopera! C'è la fase! C'è un'altra gente! Ah! Io solo松ala! Non fa per me! Torniamo a più tutte le persone che illuminate le persone! Quest'altro come via 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 vedo che l'anello si sta muovendo l'assistenza in arrivo campione fuori ricarica sfugi in corso mamma mia stranissimi per recuperare arriva in fontana io vorrei capire come mi ha ammazzato quello rai sono comunque c'è un rato fanculo non ti voglio a te voglio recuperare è un full team non lo so penso sia un rato ma non mi ne frega un cazzo vi posso restare a third party non si riesca a riprendere a me riesci occhio che è safe 3 eh io sono in safe sei tu che non sei in safe no fuori safe è impossibile che sono eh ho il banner di uno dei nostri è fantastico come fai da essere così? che chi lo ha? ho il banner di uno dei nostri è fatto un porto attacco hai passione in corso porca troia io non so solo un minuto prima sto ricaricando gli studi come allora io io resterei ma perché non c'è rispondi io resterei o dove c'era quel altro no lì è impossibile vai vai tutta a sinistra di frammento eh ma ancora anche se c'è un trasmettitore piazzo una torre di evacuazione amici perché se c'è riserva là e riusciva a chiedere quel ratto non ci potremmo pigliare lo su mancano otto persone voglia 30 secondi e mezzo minuto eh il resto è qua combat sì sì cioè quello che sa che è l'unico full team hai venti secondi io sto dormendo allora io ho visto una carabina ho visto un emesis che bello io sono la carabina della papà sì 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 allora ce la facciamo con ehm eh dovevo prendere il volo andare eh minchiano sefe è un po' di merda no non è un g7 porca puttana ma c'è uno da me oh è quasi nostro grande no da me vieni avanti vieni avanti vieni avanti vieni 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 dimmi che c'è da qui ok sono due sono due distrutto uno no 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 non ho più ammo io io non più amo finito tutti i colpi sto messa così oddio oddio ok un attimo eh oh c'è una cassa qua guarda che ho c'è un primo qui dietro nascosto Dove sono le casse? Oh, tieni a neve Dove stanno? Dove stanno? Minchia vuote Minchia sono vuote È sopra e vuote Dove era morta questa? Oh, è qua dietro Mi ha smirato tutto l'R99 Ma è solo, mi sa Eh, questo dobbiamo killarci Ma cazzo è? Ma c'è una cassa qua, ragazzi Niente, vuote Ma che cazzo è che ho bisogno di così tanto tutto? Ma come cazzo è? Ma che ho 24 celle Ne ho zero Ma che luce qui è di verde Dammi celle, compa Vole celle, vole celle Vole qua Vieni con me, sto vomitando No, pesante Pesante Guardi in me, raga Carcato, fatti Minchia finita tutto La safe, cazzo, la safe, raga Eh, torniamo da dietro, esatto Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, vabbè, nemmeno Ricarico gli scudi La vai, sta impiettata, sta impiettata Da me, da me, da me, da me Eh, non... Mi spender, ce l'abbiamo proprio davanti Sì Ho solo card Io sono pk Ce l'ho, ce l'ho Sì, 3, 2, 1 Vai Ho più di così nella carabina Prendila, 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 già non capito Si è fatta... Ah, la gold, la gold Si è fatta gli shieldini Ah, è entrata nella casa Ho finito tutto Il leggero e il minero Vole come cazzo è possibile Se il team qua C'è qua Ci sta sfuggendo qualcosa Io, io ho solo il leggero Ah, ma sono qui dentro Sì, è uno di quegli imbecilli Io sono più gay Io sono car Con me, tipo Allora, ho fatto Ho fatto un voto di l'osso No, cazzo 45 secondi Ho bisogno di... Dimmi che ci sono leggiere No, 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 no No, non ce ne sono Ho solo 5 colpi di piglia Colpi shotgun ce li ho io No, leggere, leggere Io, io, colpi di che? No, leggere no Colpi di che io Pusha no? Pusha no 39 Dove sono i colpi shotgun? Non fa Tenete Tre squadre 18 flash No, flash No, flash C'è un racco Step 3 Let's go Let's go ma che cazzo lì non ti ho vinto ma cos'è si è attivo dico posso pubblicarlo io nel tuo canale questo è un pochettino perché troia il giudizio bocciassi il sito per no però dico mi devi cliccare e chi è capace di ritorno su cui si vengono sempre la scelta perfetti e vota pubblica tiri della pagina se ti chiamarci troppo oh no in automatico proprio cadrò altri 469 punti niente proprio lo standard massimo 484 io ma prima ci siamo ci siamo prima ero io così con 480 ho fatto più tanti più più Grazie a tutti